Sapere quali micronutrienti fanno bene al nostro corpo e di conseguenza scegliere quali alimenti privilegiare è il primo passo per avere difese più forti e funzionali. Tra gli elementi più importanti per il sistema immunitario sicuramente rientrano le vitamine C e D, due principi essenziali per la salute di ogni essere umano. Ma finché possano essere sintetizzate in modo efficiente nel nostro organismo, è fondamentale assimilarle ogni giorno in quantitativi adeguati. Ce ne parla la nutrizionista Giada Moscatelli. Perché queste vitamine sono importanti per il nostro corpo? Le vitamine sono importanti perché fanno parte della famiglia dei micronutrienti, quindi sostanze che vanno assunte fondamentalmente anche se in piccola quantità, però attraverso l'alimentazione. Sono importanti per il buon funzionamento di tutto l'organismo e soprattutto del sistema immunitario. È vero che possono diminuire il rischio di infezioni? Certo, sono utili appunto contro tutte quelle patologie tipiche anche del periodo invernale, quindi raffreddori, influenza, patologie virali, perché proprio contribuiscono al mantenimento di un sistema immunitario sano. Le vitamine più importanti da questo punto di vista sono la vitamina C conosciutissima, che praticamente la troviamo in agrumi, ma anche nel cavolo cappuccio, quello viola. Ed è molto importante anche sia assumerla a livello alimentare, ma se non riusciamo con l'alimentazione, anche attraverso degli integratori. E invece la vitamina D? La vitamina D è un'altra vitamina molto importante, soprattutto nel periodo invernale, perché comunque viene prodotta dal nostro corpo con l'esposizione al sole. Per cui nel periodo invernale ci si espone di meno, è importante assumerla come integrazione. Ma bisogna fare attenzione perché la vitamina D, a differenza della vitamina C, se è assunta in eccesso non viene eliminata, per cui sempre da prendere sotto consiglio, controllo medico di un nutrizionista o farmacista. Ci sono altre sostanze importanti per il nostro organismo? Certo, allora i micronutrienti sono tutti importanti, diciamo, per il buon funzionamento dell'organismo. Attualmente si stanno studiando moltissimo due flavonoidi, che sono degli antiossidanti, sono l'esperidina, che come la vitamina C si trova prevalentemente negli agrumi, e la quercitina, che veniva studiata anche per quanto riguarda la prevenzione dei tumori, come antiossidante appunto. La quercitina è un po' più diffusa a livello alimentare, si trova anche ad esempio nei broccoli, nella lattuga, nelle mele, nel tè verde, per cui variando l'assunzione di verdura e frutta, soprattutto di stagione, possiamo averne una quantità sufficiente. Ma anche qui si può integrare se necessario, ovviamente. E anche questi sono importanti per prevenire le infezioni? Sì, appunto, ultimamente questi studi dal discorso tumorale si sono estesi anche come prevenzione, come prevenzione delle malattie virali, e si è visto comunque che aiutano un po' la risposta immunitaria al pari della vitamina C. Anzi, l'esperidina sembra proprio che agisca in sinergia con la vitamina C, quindi in molti integratori la troviamo appunto associata, l'esperidina vitamina C.